Ok, perfetto. Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto la Megagen e in particolare il professor Parche per l'invito a tenere una lecture come rappresentante della implantologia italiana. Ringrazio molto la Megagen Italia nelle persone di Federico e Filippo, ma permettetemi anche di ringraziare il responsabile Megagen del Lazio che più che altro è proprio un amico, un caro amico del Giacomo De Renzi. Io sono un chirurgo maxillofacciale che fra le varie attività della chirurgia maxillofacciale ha dedicato molta passione alla chirurgia rigenerativa e voglio raccontarvi perché dopo tanti anni ho cambiato il mio atteggiamento, il mio punto di vista e perché oggi cerco di affrontare alcuni tipi di atrofie con un atteggiamento mini-invasivo. Però dobbiamo partire da un principio molto importante, cioè comprendere che noi siamo dei medici, siamo dei professionisti, abbiamo un ruolo sociale e il nostro compito è cercare di far masticare i nostri pazienti con dei denti fissi ancorati a degli impianti. E questo lo stanno dimostrando evidenze scientifiche, quindi dei lavori scientifici che stanno uscendo fuori e che stanno dimostrando come la masticazione abbia un ruolo importante nello stimolare l'attività cerebrale, quindi nello stimolare il locus ceruleus. E ci sono pubblicazioni anche dei nostri gruppi italiani, in particolare il dottor Vincenzo De Cicco, che sta dimostrando come questa attività masticatoria, in particolare la riabilitazione del sesto inferiore, che agisca proprio nel stimolare l'attività cerebrale. Quindi il nostro compito è ridare una masticazione ai nostri pazienti. Io ho una certa età e quindi ho vissuto un po' tutte le ere, le epoche dell'implantologia, ho cominciato nel 1985. Nel 1985 noi vivevamo un periodo molto spensierato, perché inserivamo i nostri impianti lì dove c'era l'osso. Poi nel fine anni 80, quindi inizi anni 90, è esploso il grande messaggio dell'implantologia protesicamente guidata, in particolare con i lavori di Dalin, di Massimo Simion, quindi tutta l'introduzione della GBR. E si è detto, noi dobbiamo cercare non di mettere gli impianti dove è presente l'osso, ma cercare di ricostruire l'osso nel punto giusto dove vanno posizionati gli impianti dal punto di vista protesico. Per cui noi abbiamo cominciato a cercare di trovare delle soluzioni per cercare di ricostruire l'osso. Io nella mia vita, dal 1993, come chirurgo maxilofacciale, ho cominciato a provare delle tecniche ricostruttive. E vedete che nella mia attività, i numeri sono importanti, ho fatto tanta chirurgia ricostruttiva, in particolare con l'osso autologo. Ma le ho provate tutte le tecniche, con periodi di esaltazione, per cui ero convinto in un certo periodo della mia vita di aver trovato la tecnica giusta, per poi rendermi conto che quella tecnica che mi sembrava corretta, in realtà aveva e creava dei problemi. Per cui le ho veramente provate tutte, vedete, dalla cresta splitting, alla GBR, agli innesti only, al sinus lift, all'approccio laterale-crestale, alla distrazione ostrogenetica, alla tecnica inlay, alla trasposizione del nervo alveolare. E il quesito che noi ci siamo posti nel corso degli anni è di capire quale di queste tecniche fosse in realtà la tecnica più giusta. Ma noi non siamo in grado di dare una risposta e lo dimostrano le revisioni sistematiche di Peter Moio, le revisioni sistematiche di Marco Esposito, dove vedete che quando si vanno a comparare le varie tecniche di incremento orizzontale o verticale, in realtà non c'è una risposta che ci dica quale sia la tecnica migliore. Quindi la conclusione è che ogni specialista cerca di mettere in atto la tecnica di cui è più padrone. Quindi il primo messaggio, molto banale, molto semplice, è che ci sono tante tecniche rigenerative, ma l'evidenza scientifica non ci dice quale sia la tecnica migliore. Poi, a un certo punto, dopo tanti anni di esperienza di chirurgia ricostruttiva, e ve la mostrerò, e ve la mostrerò, praticamente vi dirò che sono passato lentamente e progressivamente alla implantologia minimamente invasiva. La implantologia minimamente invasiva però ha bisogno di evidenze scientifiche, di ricerche, cercare di confrontare questo utilizzo degli impianti tiltati o degli impianti corti con quelle che erano le tecniche, che in quel momento erano le tecniche più, diciamo, considerate evidenti. Per cui abbiamo cominciato a fare dei lavori, delle ricerche scientifiche, in particolare degli RCT, cioè degli studi clinici randomizzati, ed in particolare con il dottor Pietro Felice sotto il controllo del professor Marco Esposito. Abbiamo cominciato a usare delle alternative all'osso autologo e abbiamo cominciato a utilizzare gli impianti corti, e parlerò alla termine di questa relazione, in particolare degli impianti corti. Poi nel corso degli anni si sono aggiunti altri centri universitari, come l'Università di Chieti, con il professor Piattelli, l'Università di Napoli con il professor San Martino, l'ospedale di Ancona con il dottor Balercia, l'Università di Trieste con il dottor Checchi e l'Università di Lione con la dottoressa Bolle. Quindi abbiamo collaborato tutti insieme per cercare di trovare una soluzione al trattamento delle atrofie. Negli ultimi anni ancora ci siamo sempre più convinti che si debba non più parlare di implantologia protesicamente guidata, ma di implantologia eticamente guidata. Il nostro paziente non deve essere sottoposto a interventi ricostruttivi che comportino 10, 15, anche più mesi di attesa per riuscire ad arrivare a una riabilitazione protesica. Per cui ci stiamo sempre di più avvicinando agli impianti ultra short e agli impianti psicomatici. Tornando all'implantologia protesicamente guidata vi voglio un po' raccontare quello che è stato il mio percorso nel corso di questi quasi 30 anni di chirurgia ricostruttiva. E diciamo io mi sono essenzialmente dedicato all'utilizzo dell'osso autologo e queste tecniche ricostruttive che ho detto adesso stanno un pochino, vengono un pochino rivisitate nell'ottica dell'implantologia mini-invasiva, devono comunque essere considerate ancora necessarie nelle aree estetiche. Perché il compito nostro è di ricostruire osso in un'area estetica dove poi dobbiamo posizionare l'impianto in posizione corretta. Vedete questa è un'atrofia di un dente singolo dove noi abbiamo posizionato un blocco di osso fissato con due viti di osso sintesi perché vogliamo che dopo quattro mesi ci siano almeno due millimetri di osso vestibolare a protezione del nostro impianto. Oggi si sta anche molto discutendo se sia importante avere questi due o tre millimetri di osso vestibolarmente all'impianto o sia anche importante avere una minore quantità di osso vestibolare ma avere una corretta quantità di osso connettivo e credo che questa sia la soluzione attuale. Vedete questa è la situazione prima del trattamento e questa è la situazione del controllo dopo cinque anni e questo è il controllo dopo 12 anni. Vedete come la riabilitazione nella zona dell'incisivo centrale di destra ha creato quegli spessori corretti e quel mantenimento dei tessuti ossei e molli che mantengono l'estetica e mantengono la salute dell'impianto. Questo è un altro caso, questo è un paziente giovane che aveva perso per un evento traumatico il gruppo incisivo e vedete che avrebbe osso per espandere o per posizionare l'impianto lì dove c'è quel residuo di osso ma sicuramente non avremmo un risultato estetico accettabile per cui a quel tempo io pensai che fosse corretto fare degli innesti con dell'osso prelevato dalla cresta iliaca, oggi probabilmente userei una tecnica ricostruttiva diversa e vedete che gli impianti vengono posizionati essenzialmente in osso rigenerato però ho capito anche nel corso degli anni che la riabilitazione ossea non è sufficiente dobbiamo aggiungere i tessuti molli quindi vedete che abbiamo utilizzato un innesto libero di connettivo per creare quei volumi tessutali che poi ci consentono di condizionare i tessuti con una protesi provvisoria e avere alla fine un risultato estetico accettabile ma cosa più importante anche una stabilità nel tempo qui abbiamo un follow up a molti anni. Quindi l'equisito che noi ci dobbiamo porre è che è come ricostruire quest'osso ma il vero quesito è capire se quest'osso sia un osso biologicamente attivo io parlo proprio di osso biologicamente attivo e vi spiego perché parlo di osso biologicamente attivo che sia poco come in questo caso di un incisivo centrale o che sia un po' di più come in questo caso di un macellare ricostruito completamente con la cresta iliaca e per farmi capire che cosa intendo di osso biologicamente attivo vi mostro questo paziente che è un paziente che vedete ha un carcinoma del fornice vestibolare superiore è un carcinoma non molto grande quindi è un carcinoma in fase iniziale ma quando ci troviamo di fronte a un carcinoma dobbiamo fare una resezione ampia quindi ho fatto un'emimaxillectomia subtotale parziale portando via quella componente di osso e ovviamente i tessuti moldi circostanti. era un paziente di una certa età e quindi ho pensato che fosse corretto fare una ricostruzione non con dei lembi microvascolari ma con un lembo nasogenieno peduncolato quindi un lembo cutaneo che viene vedete scolpito e inserito a tunne all'interno del cavo orale quando noi posizioniamo la cute all'interno del cavo orale la cute va incontro a un processo che si chiama dimetaplasia mucosa per cui lentamente si trasforma in un tessuto mucoso molto ipercheratinizzato però vedete comunque è un tessuto diverso dal tessuto cutaneo originale il problema di questo paziente è che avevamo risolto il problema cancro però aveva un'esigenza particolare vedete che ha un inestetismo l'inestetismo è dovuto al fatto che ha perso sostegno dell'ala del naso quindi ha questo collasso della narice sinistra e il paziente ci chiedeva di risolvere questo problema a quel tempo, poi ve ne parlerò, stavamo cominciando a lavorare con i blocchi di osso equino per cui io ho pensato che per risolvere rapidamente il problema a questo paziente fosse intelligente, realizzare un modello stereoditografico modellare in cera, vedete questo è un modello in cera che simula la ricostruzione tridimensionale del mascellare questa cera poi è stata inviata in una struttura che ci consentisse in cat cam di realizzare questo blocco di osso equino modellato secondo lo schema che io avevo fornito alla ditta e vedete che questo blocco di osso equino premodellato si è adattato perfettamente al deficit osseo quindi l'intervento è consistito nell'incidere la mucosa scollare l'emimascellare sinistro vi mostro questi due forellini che sono due comunicazioni che noi abbiamo con la fossa nasale di sinistra e con il seno mascellare questo è il blocco posizionato perché il blocco si è adattato perfettamente al deficit osseo fissato con due placche di osseosintesi e questa è la soluzione, il controllo clinico a distanza che mostra come abbiamo ottenuto un nuovo sostegno dell'ala del naso vedete il pre e il post il problema è che il paziente dopo ci ha cominciato a chiedere se fosse possibile riabilitare questo emimascellare con degli impianti quindi il quesito che noi ci dobbiamo porre è se questo blocco di osso che noi abbiamo posizionato sia biocompatibile sicuramente lo è biocompatibile lo dimostra il fatto che nei controlli TAC a distanza vedete che non c'è nessuna reazione infiammatoria a carico sia del seno mascellare che delle fosse nasali il problema è chiedersi se tutto questo blocco di osso ricostruito sia in realtà osso biologicamente attivo e io credo che non lo sia perché sicuramente noi possiamo avere un po' di osso rigenerato a questo livello un po' di osso rigenerato a livello del palato ma lì dove andiamo a posizionare l'impianto è sicuramente la posizione più difficile da rigenerare con un osso biologicamente attivo e vi mostrerò poi dei casi ricostruiti con i blocchi di osso equino dove abbiamo cercato di pretendere troppo dalla biologia noi oggi dobbiamo sapere che per avere un osso biologicamente attivo dobbiamo avere un letto ricevente che sia un letto ricevente che ci fornisca sangue ci fornisca neoangiogenesi e se non c'è neoangiogenesi non ci può essere osso biologicamente attivo vedete questi sono due mascellari ricostruiti con due tecniche differenti a sinistra questo è un blocco di osso autologo questo a destra è tutto un mascellare ricostruito con dei blocchi di osso equino apparentemente abbiamo tanto volume ma non sappiamo quanto in realtà abbiamo di componente osseattiva nel caso di destra allora parliamo quindi di innesti a blocco vi ripeto io ho cominciato tanti anni fa e essenzialmente ho iniziato utilizzando sia l'osso a prelievo intraorale che l'osso a prelievo extraorale l'osso a prelievo intraorale può essere prelevato dalla sinfisi come in questo caso o dal ramo come in quest'altro caso avete visto che nell'osso prelevato dalla sinfisi abbiamo una componente corticale associata a una bellissima componente di midollare l'osso prelevato dal ramo è un osso essenzialmente corticale osso di grandissima qualità però vedete che ci consente di ricostruire forse uno, due elementi possiamo anche con la tecnica di Curie con i dischi di Curie andare ad allargare i nostri scollamenti ad aumentare il prelievo di osso splittare quest'osso poi vi parlerò della tecnica di Curie e quindi avere una maggiore chance di incrementare le nostre rigenerazioni vedete questo è un blocco di osso prelevato dal ramo dopo quattro mesi quando noi rientriamo andremo a svitare le nostre viti di osso sintesi che devono essere sempre almeno due e vedete che quella componente di osso che abbiamo rigenerato ci consente di posizionare l'impianto con almeno due millimetri di osso vestibolare vedete un altro caso un altro caso di ricostruzione molto importante vi faccio vedere questo caso per farvi vedere una cosa come questo blocco che apparentemente è ancora perfetto vedete che è ancora presente a distanza di quattro mesi è ben evidente questo vuol dire che non c'è stata una straordinaria integrazione di questo blocco di osso autologo però vedete che nonostante ciò abbiamo posizionato il nostro impianto abbiamo messo la nostra protesi e questo è il controllo clinico a distanza di 10 anni ma se dobbiamo ricostruire ancora più osso quindi ad esempio un emimascellare un mascellare totale oppure un 2-3 quadranti ovviamente l'osso prelevato all'interno del cavo orale non è sufficiente dobbiamo fare un prelievo extraorale questo è un prelievo eseguito a livello della cresta eliaca il grosso problema del prelievo della cresta eliaca è la qualità dell'osso che noi troviamo nel nostro paziente vedete queste sono due creste eliache ovviamente questa è una cresta eliaca prelevata a una 35enne e vedete quanta componente corticale noi abbiamo questa è una cresta eliaca prelevata a una paziente di 70 anni che si piega addirittura sotto le nostre mani voi capite che noi avremo due risultati rigenerativi diversi a seconda della qualità di osso che noi troviamo a livello della cresta eliaca quando entriamo dopo rientriamo dopo 4 mesi vedete che troviamo le nostre vidi di osteosintesi questo è un caso che ha molti anni e il quesito che noi ci dobbiamo porre è capire quanto sia stabile quest'osso nel tempo e se io vi mostrerò io vi mostrerò questo caso e se io vi mostrassi tutti i casi come questi vi potrei dire tranquilli la cresta eliaca è un osso stabile mettiamo i nostri impianti e quando faremo i controlli radiologici nel tempo vedrete anche a distanza di 15 anni abbiamo ancora i nostri impianti e abbiamo il nostro osso vestibolarmente agli impianti che abbiamo posizionato e quindi anche questo caso vedete è un caso che a distanza di 15 anni ancora i suoi impianti perfettamente stabili il problema è quante volte noi riusciamo a ottenere questi tipi di risultati vi faccio vedere questo caso questa è una paziente una paziente che aveva un'atrofia del terzo quadrante ricostruita con un blocco prelevato dalla cresta eliaca ovviamente facciamo tutto ciò che è necessario fare ma lo facciamo ancora oggi se facciamo una tecnica alternativa quindi detendiamo i nostri tessuti fissiamo il nostro innesto a blocco preservando ovviamente il nervo mandibolare mettiamo delle cipse di osso autologo negli spazi chiamati morti e andiamo a chiudere e aspettiamo ovviamente il tempo necessario che questo osso ci dia un osso stabile per posizionare i nostri impianti quindi aspettiamo almeno 4 mesi e vedete che dopo 4 mesi abbiamo ottenuto un incremento sia verticale che trasversale il che ci consente di posizionare tre impianti e vedete questo è il controllo subito dopo l'inserimento implantare questo è il controllo a distanza di 18 mesi questo è il controllo a distanza di 3 anni e questo è il controllo a distanza di 8 anni dove vedete che c'è addirittura un miglioramento della qualità dell'osso che è andata incontro a una progressiva mineralizzazione conseguente al carico protesico e questo è un controllo a distanza di 10 anni febbraio 2010 vi faccio vedere che cosa è accaduto nell'arco di 9 mesi cioè la paziente è tornata al controllo dopo 9 mesi e dopo 10 anni che tutto era perfettamente stabile e vedete che nell'arco di 9 mesi ha sviluppato una perimplantite e tutto questo tessuto noi lo possiamo definire un epudite per implantare cosa fare in questi casi? o eliminare gli impianti quindi rimuovere gli impianti e reiniziare un nuovo trattamento ma la paziente non ha accettato questa soluzione diciamo di tipo chirurgico-protesico oppure andare a fare una chirurgia ricostruttiva cercando di decontaminare gli impianti e ricostruire osso intorno a questi impianti ma vedete che il gap osso è molto importante e poi riuscire a decontaminare correttamente questi impianti è estremamente problematico oppure fare una tecnica resettiva e in quei casi la paziente ha accettato una tecnica resettiva che esteticamente è drammatica però capite che stiamo parlando di un settore posteriore per cui nel 2010 abbiamo fatto questo trattamento resettivo e vedete che la paziente è andata avanti ancora altri 5 anni con una soluzione ovviamente estremamente inguardabile da un punto di vista estetico ma stabile da un punto di vista funzionale il problema è che poi la paziente ha avuto un nuovo episodio di perimplantite e vedete che a 17 anni ha perso i due impianti distali e in quel caso ho proposto alla paziente di fare un nuovo intervento ricostruttivo perché vedete che avevamo solamente 5 mm di osso al di sopra del canale a quel tempo già lavoravamo da molti anni sugli impianti corti e abbiamo quindi optato per una soluzione più semplice inserendo due impianti corti che sono degli impianti corti ancora in fase sperimentale che sono degli impianti a espansione e vedete che la paziente praticamente adesso ha un impianto anteriore standard che è il vecchio impianto posizionato ormai praticamente 20 anni fa e due impianti short distalmente e questo è un altro caso vedete un caso di ricostruzione con un blocco di osso prelevato dalla cresta elieca una rigenerazione che è una rigenerazione se voi vedete il rientro a 4 mesi è perfetta da un punto di vista ricostruttivo svidiamo le viti di bloccaggio di ossosintesi utilizzate per il nest a blocco e vedete che abbiamo un osso che apparentemente è un osso biologicamente attivo e inseriamo degli impianti faceva parte di un protocollo e vedete che inseriamo tre impianti forse oggi a posteriori se dovessi tornare indietro probabilmente inserirei due impianti uno mesiale e uno distale dove abbiamo sicuramente la migliore rigenerazione ossea e non inserirei l'impianto mediano avete visto che in quel caso noi a distanza di 10 anni abbiamo avuto un problema di perimplantite ma vedete che in questo caso questo è il controllo postoperatorio a distanza già di un anno abbiamo cominciato a perdere 2-3 mm di osso intorno alle nostre spire e in due anni la paziente ha perso completamente tutto quanto l'osso rigenerato e ovviamente abbiamo dovuto sacrificare l'impianto distale fare una tecnica resettiva e la paziente adesso va avanti con questi due impianti uno mesiale e uno distale ma vedete che l'impianto distale è un impianto candidato alla partenza di una nuova perimplantite allora si è detto che la cresta eniaca fosse un osso non di grande qualità e non di grande stabilità nel tempo e abbiamo cominciato a utilizzare tanti anni fa la calvaria io personalmente ho fatto tanti casi di prelievi di calvaria ovviamente prelievi di calvaria che vanno fatti solamente dopo aver fatto un attento studio TC per controllare gli spessori della teca cranica esterna la calvaria ci dà grandi qualità di osso però vi mostro uno dei miei casi cioè un caso che a distanza nel posto operatorio nel fare l'attacca di controllo mi ha mostrato che avevo fratturato la teca cranica interna senza alcun tipo di problema ma avrei potuto avere un grosso ematoma subdurale con il decesso del paziente per cui l'altro grande messaggio che io intendo darvi è questo sì è vero la chirurgia rigenerativa con osso-autologo è buona ci dà grandi risultati ma è complessa è costosa ed è una chirurgia che comporta comunque dei rischi allora forse ha ragione Curie Curie è un chirurgo libanese che lavora in Germania che preferisce utilizzare sempre e solamente l'osso a prelievo infra-orale però ripeto la difficoltà è ricostruire grossi settori con questa tecnica vedete si prende l'osso a livello dell'angolo si splitta si fa questa ricostruzione che è diciamo una ricostruzione a box posizionando queste lamine vestibolari e palatali in questo spazio si vanno a inserire delle cipse di osso-autologo a distanza di 4 mesi si rientra per inserimento implantale vi faccio vedere un caso proprio uno dei miei casi di riabilitazione di mandibola posteriore utilizzato con realizzato con questa tecnica quindi prelievo a livello dell'angolo controlaterale split dell'osso prelevato a livello del ramo una lamina viene posizionata orizzontalmente vedete fissata sul picco osso mesiale sul picco osso distale fissata con due viti di osso-sintesi si crea uno spazio al di sotto di questa lamina che viene riempita con delle cipse di osso-autologo e poi la seconda lamina viene messa vestibolare a chiudere l'intera costruzione e se noi andiamo a fare un controllo a distanza di tre mesi vedete che rientriamo e troviamo una perfetta rigenerazione ossea abbiamo fatto anche qui delle istologie i lavori di Fuad Curie sono straordinari e lui ha una casistica enorme con dei risultati importanti però io ritengo che sia una tecnica biologicamente bellissima però estremamente difficile quindi non praticabile da tutti nei propri studi nel corso degli anni un'altra tecnica che lì per lì sembrava veramente la tecnica che risolvesse tutti i nostri problemi un'altra tecnica è la tecnica osteodistrattiva la tecnica osteodistrattiva che cosa ci consente di fare ci consente di vedete fare un'incisione vestibolare quindi non cristale perché vogliamo lasciare comunque del periostio a contatto della cresta ossea presente residua poi andiamo a disegnare un tassello di osso che prima di scolpirlo completamente dobbiamo testare con un osteodistrattore dopodiché vedete cominciamo a disegnare questo tassello di osso utilizzando delle frese rotanti poi con l'introduzione della biologia piezoelettrica la biologia piezoelettrica vedete che posizioniamo il tassello prima di staccare completamente l'osso poi stacchiamo completamente l'osso dopodiché andiamo a riposizionare il distrattore al volare lo testiamo a livello intraoperatorio e poi lo riportiamo in posizione aspettiamo otto giorni dopodiché si attiva questo distrattore che porta su come un ascensore quel tassello di osso il problema è il controllo del vettore vedete che questo tassello di osso si è lingualizzato e quindi quando andiamo poi a mettere i nostri impianti abbiamo un'implantologia che è un'implantologia completamente spostata verso il versante linguale per cui avevamo anche lavorato con una ditta italiana per cercare di realizzare un distrattore al controllo del vettore vedete c'è una doppia cerniera che consente a questo distrattore di spostare il tassello osso vestibolare ma vedete quanto è ingombrante questo distrattore per cui è una tecnica che comunque molto bella anche questa biologicamente estremamente razionale ma non è una tecnica accettata e personalmente credo che sia corretto dire che debba essere sostituita da un'altra tecnica che è la tecnica a sandwich tecnica a sandwich che è stata introdotta nel 76 da Scheffler e in Italia abbiamo due grandi esperti che sono il professor Marchetti e il professor Pietro Felice di Bologna che vedete hanno fatto tanti casi io anch'io mi sono appassionato a questa tecnica il problema di questa tecnica è che dobbiamo staccare il tassello sollevarlo contestualmente all'intervento e nei casi che io feci inizialmente andavo a interporre un blocco di osso autologo ovviamente se noi dobbiamo fare questa tecnica e poi andare a fare un prelievo di cresta liaca per portarla al termine andiamo a complicare le cose devo dire che tanti anni fa ormai il dottor Pietro Felice attualmente il professor Pietro Felice ha fatto uno studio molto bello in cui split mouth in cui da un lato ha fatto questa tecnica andando a interporre un blocco di osso autologo e dall'altro lato ha andato a interporre un blocco di osso eterologo inizialmente suino e poi successivamente equino e questo studio clinico randomizzato split mouth ha dimostrato che in questa tecnica il blocco di osso equino interposto può dare dei risultati e dà dei risultati straordinari ma è normale che lo dia perché ci sono tutti i presupposti biologici che lo dia perché vedete noi abbiamo vascularizzazione dal tassello osso che abbiamo sollevato vascularizzazione dal letto ricevente basale vascularizzazione dal periosteolinguale voi capite che qui biologicamente esistono i presupposti perché questo blocco di osso equino dia origine a un osso biologicamente attivo e vi faccio vedere questa paziente questa è la mia paziente dove vedete che io ho posizionato due placche per sollevare questo tassello di osso e dove ho interposto un blocco di osso equino vi vorrei far notare una cosa che per posizionare stabilizzare la placca distale ho dovuto modellare con questo scalino e voi vedete che qui io non metto alcun tipo di biomateriale quindi io lascio il blocco il tassello in questo modo metto il blocco di osso equino e chiudo il lembo a chiudere il tassello e vedete che quando rientro dopo quattro mesi io trovo dell'osso al di sopra della placca eppure io qui non ho messo assolutamente nulla che cosa dimostra questo che qui si è formato un film di coagulo stabile che poi nell'arco di quattro mesi ha dato origine a dell'osso rigenerato quindi capite che non servono i biomateriali per rigenerare l'osso ma serve il coagulo serve il sangue il biomateriale ha lo scopo di stabilizzare il coagulo quindi il biomateriale ha una grande funzione ma non è dal biomateriale che si forma osso e vi faccio vedere il rientro vedete che a distanza di quattro mesi siamo costretti a rompere la placca per rimuovere la placca di osso sintesi perché non volevamo assolutamente abbattere quell'osso di sale abbiamo eseguito delle carote osse e vi voglio far vedere un'immagine di questa carota ossa dove si vede chiaramente il passaggio fra l'osso nativo del paziente cristale e la componente di osso rigenerata questi sono tutti i follow up a otto anni che dimostrano che questa tecnica è una tecnica straordinaria ma è ovvio che lo sia perché ripeto noi andiamo a posizionare l'impianto nel punto più critico che è il colletto dell'impianto in osso nativo del paziente e non in osso rigenerato perché la componente rigenerata è quella intermedia ha però un handicap che praticamente noi quando andiamo a fare questa tecnica andiamo a sollevare quella componente di osso residuo cristale che potrebbe avere un deficit anche non solo verticale puro ma anche orizzontale un deficit misto e quindi noi andremo a trasferire un deficit orizzontale anche a livello cristale quindi ha un'indicazione ben precisa cioè la risoluzione delle atrofie prettamente verticali la tecnica inle può essere anche eseguita e utilizzata nella correzione di un'atrofia del macellare vedete questo è un macellare atrofico e una paziente in terza classe scheletrica è stata fatta un alleforto 1 con degli innesti interposizionali e vedete che questi innesti interposizionali a distanza di 4 mesi ci hanno dato la possibilità di inserire degli impianti con una baca e con una protesi subbara e questo è un controllo a 10 anni quello che vi dicevo prima vedete queste sono due atrofie differenti questa è un'atrofia verticale pura con una buona componente trasversale mentre qui abbiamo un'atrofia mista se io vado a fare una tecnica inlay su questa paziente questa atrofia diciamo trasversale a livello cristale me la vado a trasferire più in alto ma a testa comunque un'atrofia trasversale vedete qui ho fatto una tecnica inlay su un macellare dove non c'era l'indicazione a fare una tecnica inlay perché avevo un'atrofia orizzontale a livello cristale tant'è vero che nel rientro sono stato costretto ad associare poi una GPR quindi noi dobbiamo capire che il nostro compito di chirurghi che abbiamo seguito questo percorso nel corso degli anni noi chirurghi dobbiamo capire qual è la soluzione più giusta e più corretta per fare una chirurgia semplice al nostro paziente creando meno danni e meno sofferenze al nostro paziente allora a un certo punto abbiamo pensato che la soluzione potesse essere provare a sostituire l'osso autologo con un blocco di ossequino quindi non andare a fare più prelievi di osso a livello extraorale ma utilizzare questi blocchi di ossequino e ovviamente è una tecnica molto più semplice perché voi capite che se io prendo un modello stereoditografico prendo questi blocchi di ossequino e prima di addormentare la paziente vada a modellare questi blocchi sul modello stereoditografico nel momento in cui ho ottenuto quello che ritengo una corretta modellazione di questi blocchi posso addormentare la paziente e seguire praticamente con la stessa tecnica che noi abbiamo utilizzato per i blocchi di osso autologo scollare i mielembi e andare a posizionare tutti questi blocchi esattamente come posizionavamo i blocchi di osso autologo detendere i lembi posizionare una membrana a protezione del granulare se serve e chiudere i nostri tessuti e aspettare ovviamente non più quattro mesi ma aspettare nove mesi e vedete che in questo caso la paziente ha avuto una sua riabilitazione implantare e vi mostro quest'altro caso vedete di rientro dopo nove mesi dopo aver posizionato questi due blocchi di ossequino in area premolare e vedete che abbiamo fatto anche delle istologie istologie estremamente confortanti e questi ci hanno spinto a portare avanti un protocollo di ricerca per confrontare pazienti trattati con blocchi di osso autologo con pazienti trattati con blocchi di ossequino vedete come sanguina il blocco l'osso rigenerato dal blocco di ossequino abbiamo fatto istologie proprio in questi punti e vedete il lato controlaterale e anche qui abbiamo avuto una buona rigenerazione trasversale e abbiamo potuto posizionare i nostri impianti e vedere quel controllo a 5 anni ci mostra una buona stabilità del risultato il problema è che nel nostro studio clinico randomizzato confrontando osso autologo con ossequino abbiamo cominciato a vedere in alcuni casi dei problemi quindi il quesito è avremo sempre lo stesso risultato implanto protesico e vi mostro questo caso che è una paziente giovane di 41 anni ricostruita tutta con blocchi di osso equino tutto perfettamente stabile fino all'inserimento a implantare e fino alla scopertura degli impianti con l'inserimento dei pilassi di guarigione ma vedete che nella fase di guarigione dell'approfondimento di fornice e dell'inserimento dei pilassi di guarigione a distanza di 30 giorni la paziente torna la paziente viveva in Inghilterra torna con questa grave esposizione di quest'osso equino la paziente in Inghilterra e si ripresenta perché doveva tornare per motivi familiari in Inghilterra si ripresenta dopo altri 10 giorni guardate come si è ulteriormente esposto quest'osso perché si è esposto perché questo non è osso biologicamente attivo questo non è osso questo è un tessuto di sostegno che non ha niente di biologico al suo interno e quindi ci dobbiamo proprio dobbiamo riflettere su questa nostra esperienza e capire che i blocchi di osso equino non hanno la stessa efficacia della tecnica GBR poi vi parlerò che la tecnica è un GBR nonostante io pensassi che potessero essere assimilati a una tecnica GBR allora avete visto la paziente di prima riabilitata con la tecnica di leforte 1 con gli innesti interposizionali avete visto la paziente riabilitata con i blocchi di osso equino allora io dico che nei macellari fortemente atrofici dove non abbiamo i presupposti biologici per avere una corretta rigenerazione ossa nel tempo io personalmente credo che sia più eticamente corretto in questi pazienti trovare delle soluzioni alternative e noi stiamo lavorando molto sui impianti psicomatici che ci consentono di dare alla paziente la possibilità di avere una protesi e anche esteticamente valida nell'arco di 24 48 ore vedete questi sono tutti i pazienti che hanno il loro bel sorriso grazie agli impianti zigomatici vi voglio parlare però adesso di un'altra tecnica perché poi abbiamo le atrofie settoriali vi voglio parlare della split crest tecnica la split crest tecnica è una tecnica molto valida perché voi capite che quest'osso che noi andiamo a splittare e a trasferire vestibularmente è osso nativo del paziente quindi concettualmente è come la tecnica inlay il problema è che io credo che questa tecnica espansiva possa funzionare bene nel macellare superiore ma non nella mandibola e vi spiego perché perché secondo me è improponibile andare a espandere un osso mandibolare che abbia una corticale vestibolare estremamente spessa e allora io nel 2006 lessi un articolo di un certo Enis Lidis che proponeva di eseguire questa tecnica in due tempi cioè vale a dire un primo intervento con un lembo a spessore totale dove si va a disegnare il tassello osseo che dovremo poi espandere a distanza in cui eseguiremo non soltanto le corticotomie mesiali distale e cristale ma anche la corticotomia basale eseguita esattamente quando dove a che altezza 3 mm più su di quello che è la lunghezza dell'impianto che noi andremo a inserire quindi se dovevo inserire un impianto da 11 mm la corticotomia basale la eseguirò a 8 mm richiudiamo i lembi aspettiamo 5 settimane perché? perché vogliamo che il periossio ricrei la sua vascularizzazione con il tassello di osso ma non vogliamo neanche dare il tempo a quelle corticotomie di creare un callo osseo stabile per cui a distanza di 5 settimane eseguiamo un rientro che prevede un unico incisione cristale senza svincoli uno scollamento solo eventualmente linguale ma mai uno scollamento vestibolare e vedete che ritroveremo la corticotomia cristale a quel punto inseriremo uno scalpello all'interno di questa corticotomia e andremo a fare una progressiva espansione perché si espande e avremo non soltanto una vestibolarizzazione del tassello nella parte cristale ma una vestibolarizzazione del tassello anche nella componente basale quindi una trasposizione corporea di tutto il tassello e vedete che l'impianto viene stabilizzato a livello apicale e sarà l'impianto stesso che manterrà questo spazio possiamo anche non mettere del biomateriale all'interno in questo caso io ho inserito del biomateriale ho messo una membrana ma capite che lì ci sono tutti i presupposti biologici perché lì all'interno di quei due tasselli di osso di quei due corticali si formi osso rigenerato e vedete questo è un controllo a distanza di 5 anni e questi sono una serie di casi vedete esattamente qui dove era presente la corticotomia basale e vedete che a distanza di tempo avremo un controllo e abbiamo proprio una trasposizione corporea del tassello che sono due taglie sic-tac eseguiti alla stessa altezza e vedete questo è un controllo clinico a 10 anni e vedete anche qui in questa tac si vede proprio chiaramente che il tassello osso vestibolare ha subito una trasposizione corporea reale e vedete questo è il controllo radiologico a 10 anni vedete che anche questi sono tac eseguiti a 10 anni che ci mostrano il mantenimento del tassello di osso vestibolare ai nostri impianti qui mostro questo caso che io però ritengo molto interessante per far capire quale sia la reale indicazione a questa tecnica vedete questa è una paziente che vedrete poi nelle nasse successive ha una atrofia bilaterale del mandibola posteriore quindi terzo e quarto quadrante nel lato di destra questa è la Combin abbiamo tutti i presupposti per fare una tecnica espansiva perché abbiamo due corticali e abbiamo una componente midollare importante e quindi a questa paziente io ho eseguito una tecnica Splitting e questo è il controllo radiologico post-operatorio quindi questi sono i tre impianti posizionati con la tecnica dell'espansione cristale secondo la tecnica di Nislidis abbiamo un'atrofia nel terzo quadrante che è apparentemente simile ma se noi andiamo a fare lo studio TC di questo terzo quadrante ci rendiamo conto che qui dobbiamo fare un post-estrattivo su questo elemento dentario e poi se andiamo a controllare i tagli posteriori a questo livello avremmo i presupposti per fare una tecnica espansiva ma qui vedete che cominciamo a perdere verticalità abbiamo poca componente midollare e quindi capite che qui non possiamo fare una tecnica espansiva dobbiamo fare una tecnica diversa e qui ho optato per una tecnica ricostruttiva con la GBR quindi vedete ho disegnato un lembo trapezoidale ci siamo preoccupati di detendere il lembo linguale evidenziando le fibre verticali che sono presenti del minoglio dell'accessorio fibre verticali accessori chiamatele come volete abbiamo quindi deteso sia il lembo linguale che il lembo vestibolare abbiamo quindi evidenziato il nervo abbiamo estratto l'elemento dentario da estrarre vedete qui ecco l'immagine dove si vede proprio l'allungamento del lembo vestibolare abbiamo controllato la detenzione di questi lembi come vi ho detto abbiamo estratto il premolare da estrarre e quindi abbiamo eseguito un post-estrattivo sul 35 ovviamente andando a fare una preparazione più linguale di quanto normalmente facciamo perché vogliamo cercare di mantenere e di stabilizzare quel band del bone vestibolare che in parte perderemo questi impianti per concetto vanno messi un millimetro sotto cresta e vedete che negli altri due siti implantari andiamo a inserire i nostri impianti e ci rendiamo conto che qui dobbiamo crescere orizzontalmente ma anche crescere verticalmente perché vi ho detto che questi impianti concettualmente è giusto posizionarli almeno un millimetro un millimetro e mezzo sotto cresta recuperiamo osso autologo con un safe scraper andiamo a prendere la nostra membrana non più assorbibile rinforzata in titanio la modelliamo la fissiamo lingualmente con dei chiodini oggi utilizzeremo delle viti andiamo a sollevare la nostra membrana andiamo a fare un refreshing dell'osso non esiste evidenza scientifica che queste perforazioni ci diano qualcosa di più ma io penso che comunque attivino il rap e quindi attivino tutto quanto il nuovo metabolismo osseo misceliamo del granulare di osso eterologo con l'osso autologo che abbiamo prelevato e andiamo a posizionare il nostro mix di autologo e biomateriale sia lingualmente che cristalmente che vestibularmente voglio far notare una cosa che nel fissare la membrana si crea come un sottosquadro al di sotto della membrana e poi andiamo a fare la nostra sudura che possiamo anche andare avanti perché è una sudura che deve essere vertente fortemente sigillante e vedete questo è il controllo radiologico postoperatore quindi avremo tre impianti a destra posizionati con la tecnica espansiva e tre impianti a sinistra posizionati con la tecnica GBA e questo è il controllo clinico vedete il pre e il post e vi rendete conto di quanto siamo riusciti a crescere trasversalmente perché con la tecnica GBA noi cresceremo trasversalmente in base a quella che è la nostra necessità la nostra richiesta modelleremo la membrana per crescere trasversalmente 10-12 mm e abbiamo corretto tutta quanta la verticalità e vedete quando noi rientriamo dopo 9 mesi innanzitutto vi faccio notare come si sia formato osso vestibularmente la membrana addirittura siamo costretti vedete qua a rimuovere osso per andare a scoprire gli iodini eppure qui non abbiamo messo assolutamente del biomateriale che cosa vuol dire questo? che si è formato osso soltanto dal coagulo andiamo a rimuovere la membrana come vi ho detto abbiamo dovuto togliere un po' di quell'osso per poter togliere la membrana e vedete che anche per andare a scoprire gli impianti siamo stati costretti a fresare per rimuovere tutto quell'osso che si è formato al di sopra degli impianti quindi la tecnica GBR è una tecnica che l'evidenza scientifica ci ha dimostrato che funziona basta che noi si rispettano tutte le regole necessarie per mettere in atto questa tecnica però che cosa ho voluto fare poi un confronto fra lo splitting e la GBR quindi lato destro con lato sinistro quindi già vedete che dove abbiamo fatto uno splitting ovviamente avevamo 3 mm di osso 3 mm e mezzo di osso abbiamo inserito degli impianti larghi 4 avremo massimo che possiamo ottenere un incremento di diciamo di quei 4 mm dei nostri impianti quindi 7-8 mm di trasversalità dove abbiamo fatto la tecnica GBR noi abbiamo una trasversalità che è decisamente maggiore non abbiamo potuto correggere la verticalità dove abbiamo fatto la tecnica splitting mentre abbiamo potuto correggere la verticalità con la tecnica GBR questi sono i vari due quadri destro e sinistro dopo l'inserimento della protesi provvisoria perché faremo un carico progressivo questo è il tempo 0 il controllo radiologico al tempo 0 questo è il controllo destra-sinistra ad un anno e questo è il controllo radiologico ad un anno e questo è il controllo clinico a 5 anni dove vedete c'è un ottimo mantenimento dei tessuti sia a destra che a sinistra secondo me è migliore sul lato dove abbiamo fatto la GBR perché abbiamo una buona quantità di tessuti molli e questo è il controllo radiologico a 5 anni e questo è il controllo radiologico a 8 anni dove abbiamo un mantenimento sia sul lato destro che sul lato sinistro però io ritengo che di fronte a un deficit misto si debba eseguire una tecnica GBR quindi parliamo della tecnica GBR rapidamente abbiamo parlato di una membrana di tipo non riassorbibile e vi faccio vedere questo video dove avete visto che nel caso precedente noi abbiamo inserito gli impianti contestualmente alla rigenerazione in questo caso non c'erano i presupposti per poter stabilizzare un impianto e quindi si deve fare una tecnica a due tempi quindi si chiama il two staged approach dobbiamo prima ricostruire osso e avete visto abbiamo messo due viti al di sotto della membrana che le definiamo tending screw fissiamo la membrana lingualmente con due viti che sono viti autofilettanti solleviamo la membrana e faremo quello che avete visto nel video precedente il refreshing il mix di autologo con il biomateriale che vedete qui il mix di autologo con il biomateriale vado un pochino più rapidamente e andremo a posizionare questo mix al di sotto della membrana per cercare di ricostruire tridimensionalmente questo deficit osseo vi faccio vedere un rientro su un o gibier fatta in due tempi quindi che cosa facciamo andiamo a incidere quel po' di gengiva aderente ancora presente perché ovviamente questi sono tutti i pazienti atrofici che hanno una carenza di tessuti duri ma anche una carenza di tessuti molli andiamo a riscoprire la membrana dobbiamo aspettare nove mesi andiamo a rimuovere le viti che abbiamo utilizzato lingualmente per fissare la membrana andiamo a rimuovere i chiodini vestibolari e andiamo a sollevare la nostra membrana e che cosa troviamo al di sotto? troviamo del tessuto neoformato che può essere in parte coperto da uno strato di connettivo ma questo strato di connettivo delle volte c'è delle volte non c'è vedete in questo caso c'è veramente una scarsa quantità di tessuto connettivo abbiamo un osso duro che non consideriamo ancora un osso altamente biologicamente attivo dobbiamo vedere addirittura a fresare per andare a trovare le tenni screw perché quello è ancora un osso immaturo dobbiamo considerarlo un baby bone quindi dobbiamo aspettare che quest'osso finisca di maturare però nel frattempo andiamo a inserire gli impianti quindi andremo a fresare senza vi faccio vedere la fase di inserimento implantare andremo a fresare e a inserire i nostri impianti così nella mandibola come nel macellare superiore vedete questo è un rientro dopo nove mesi di un macellare che veniva da un esito grave di sinus lift e di sinusite ricostruito con la tecnica GPR vedete che anche qui dobbiamo rimuovere le tenni screw e adesso avremo tutta questa quantità di osso per poter inserire i nostri impianti non ho parlato di gengiva aderente e vi faccio vedere quanto sia importante invece la gengiva aderente quando si fa questo tipo di chirurgia quindi vi faccio rivedere un caso nuovo di GPR eseguito con la tecnica One Stage quindi con l'inserimento implantare quindi abbiamo inserito i nostri impianti ovviamente i nostri impianti in parte sono stabilizzati nell'osso in parte hanno le loro spire esposte metteremo questo mix di autologo e biomateriale a copertura metteremo la membrana a chiudere aspettiamo dopo nove mesi e vedete dopo nove mesi in realtà in questo caso scusate ho fatto un errore è un caso dove io sono rientrato dopo sei mesi perché ho voluto fare una cosa che adesso faccio in tutti i casi di GPR One Stage perché nella GPR Two Stage rientro dopo nove mesi per l'inserimento implantare nella GPR One Stage io rientro dopo sei mesi per togliere la membrana non vado assolutamente a scoprire gli impianti ma vado solamente a mettere una membrana di collagene o di PRF a proteggere questo tessuto osseo che voglio che ancora maturi per cui dopo altri tre mesi quindi comunque aspetto nove mesi vado a fare la scopertura degli impianti e facciamo in questo caso un lembo a spessore parziale perché vogliamo creare gengiva aderente vedete che poi incidiamo il periosteo e andiamo a scoprire gli impianti anche in questo caso per scoprire gli impianti dobbiamo rimuovere osso perché dimostra la grande capacità di questi impianti di avere una perfetta integrazione anche in osso rigenerato facciamo un approfondimento di fornice e qui vi mostro una particolarità nel senso che io qui ho fatto un innesto di gengiva libera sui primi due impianti mentre sul terzo impianto ho fatto un approfondimento di fornice senza fare alcun tipo di innesto e vi vorrei far notare la grande differenza di guarigione dei tessuti molli lì dove è stato fatto l'innesto rispetto al sito dove non è stato fatto alcun tipo di innesto e poi capire quanto sia importante fare l'approfondimento e mettere un innesto libero questo è un controllo clinico e radiologico a 5 anni la stessa GbR può essere eseguita con delle membrane anche non di quelle riassorbibili vedete questo è un caso vi faccio vedere solo la parte finale dove praticamente nella zona anteriore dove aveva un deficit nell'area premolare ho utilizzato questo mix di autologo e biomateriale ma non ho utilizzato una membrana di tipo non riassorbibile ma una membrana di tipo riassorbibile fissata con degli utili vi faccio vedere il rientro vedete sinus lift inserimento degli impianti nella zona premolare mix membrana riassorbibile della copertura e questo è il controllo alla scopertura a distanza di 6 mesi vedete come si è formato osso nella zona vestibolare vedete come abbiamo tutti i presupposti ora per realizzare una protesi che sia una protesi esteticamente e funzionalmente valida il problema è che non sempre noi otteniamo questi risultati cioè noi ci dobbiamo sempre chiedere quante volte noi nel fare questa chirurgia riusciamo a ottenere questi risultati io devo dire che con la GPA riesco veramente devo dire sono molto soddisfatto negli ultimi anni mi sto rendendo conto che sia una tecnica estremamente estremamente predicipile però sicuramente è una tecnica che comporta del tempo perché io per portare una paziente una riabilitazione implantare devo farlo aspettare dai 9 ai 12 mesi e quindi sapete che non tutti i pazienti che accettano interventi invasivi non tutti i pazienti sono in grado di aspettare anche fino a 18 mesi allora noi dobbiamo trovare delle soluzioni alternative per tanti anni ho fatto la tecnica del bypass del nervo ho fatto anche dei casi di trasposizione del nervo mandibolare ma io ritengo che oggi si debba molto avvicinare agli impianti tiltati e agli impianti corti impianti tiltati che possono essere presi inusali che tutti conosciamo ma anche post-sinusali per andare a sfruttare un'area che è molto importante che è l'area della tuberosità o meglio della tuberosità o della pericoide che sono due aree anatomiche che bisogna distinguere ben bene e questa è una tuberosità ma noi abbiamo la possibilità se abbiamo una tuberosità rappresentata di inserire un impianto solo nella componente della tuberosità se non abbiamo una buona tuberosità prolungare il nostro impianto e portarlo più in alto fino ad arrivare alle pericoide quindi non bisogna confondere l'impianto in tuberosità con l'impianto pericoideo bisogna conoscere l'anatomia l'anatomia si conosce facendo corsi di dissezione anatomica io sono un grosso appassionato di anatomia e sono anni che mi dedico alla dissezione anatomica e quindi dico sempre che bisogna imparare l'anatomia prima di fare qualsiasi tipo di chirurgia quando noi andiamo a mettere gli impianti nella zona della tuberosità o dell'aptericoide ricordarsi che noi qui abbiamo l'arteria palatina e quindi calcolare bene l'angolazione dei nostri impianti questo è un caso proprio in cui abbiamo una componente di osso a livello della tuberosità ancora sfruttabile senza andare a impattare con l'impianto nell'aptericoide oggi abbiamo la possibilità di programmare questa chirurgia al computer quindi utilizzando delle dime chirurgiche computer assistite in questo caso vedete un caso un po' vecchio io ho utilizzato il vecchio sistema cioè di andare a disegnare sull'osso con una matita quelle che erano le strutture anatomiche sottostante in questo caso ho disegnato quello che è il contorno del pavimento orbitario e il punto del seno mascellare e il punto dove vedete dove il seno mascellare si risolleva quindi ho disegnato il pavimento del seno mascellare ho inserito due impianti nella zona premolare e poi sono andato a preparare il sito implantare nella zona retrosinusale quindi tiltando l'impianto pistale vado velocemente quindi vado un po' avanti vedete ecco ho cercato di andare con una fresa piccola cercare di percepire la presenza del pavimento del seno mascellare oggi come oggi non userei più delle frese estremamente aggressive possiamo usare delle frese o piezoele degli inserti piezoelettrici o delle frese a osteodensificazione quindi andare a cercare di anche sollevare parzialmente distalmente il pavimento del seno mascellare ma cercare di compattare quest'osso perché ripeto in genere l'osso della tuberosità è un osso estremamente poco denso è un osso D4 e quindi vedete che abbiamo inserito anche l'impianto distale questo è il controllo radiologico e questo è un controllo radiologico a 10 anni quindi l'impianto distale ha sopperito perfettamente a un eventuale impianto non tiltato dopo aver fatto un rialzo del seno mascellare e l'impianto in tuberosità può essere utile ad esempio in un caso come questo perché vedete questo è un paziente che deve rigenerare osso nella zona anteriore e nella zona posteriore quindi zona della premaxilla e secondo quadrante e ci sono dei pazienti che non accettano di portare una protesi mobile a parte che noi non potremmo poi mettergli una protesi mobile nella fase di guarigione dopo l'intervento rigenerativo e non ti accettano di stare senza denti e allora in questo caso mi è sembrato utile interessante andare a inserire un impianto tiltato in tuberosità aspettare la sua integrazione e sfruttare questo impianto tiltato in tuberosità per realizzare una protesi scusate sono andato indietro per realizzare una protesi fissa ovviamente provvisoria che sfruttasse il canino residuo e l'impianto tiltato in tuberosità quindi il paziente in realtà è stato per tutto il tempo necessario all'integrazione degli innesti ossei all'integrazione degli impianti e alla realizzazione della protesi ha utilizzato questa protesi supportata da denti e da questo impianto in tuberosità questo paziente dopo aver aspettato l'integrazione dell'impianto in tuberosità ho eseguito degli innesti a blocco con la cresteliaca cosa che non faccio più ormai da un po' di anni però in questo caso abbiamo fatto un sinus lift innesti a blocco la cresteliaca e vedete che a distanza di quattro mesi abbiamo ottenuto una buona rigenerazione ossa che mi ha consentito di inserire altri quattro impianti in prima axilla e nel secondo quadrante e quindi realizzare poi una protesi che fosse una protesi supportata da impianti totalmente dai pianti lasciando il canino isolato e ovviamente avendo questo impianto una perfetta integrazione l'ho inglobato nella protesi supportata dai due impianti in zona secondo quadrante e impianto in tuberosità chiudo e concludo con gli impianti corti perché nell'ambito delle soluzioni implantare i protesi che non possiamo più ormai non considerare gli impianti corti noi da anni stiamo facendo degli studi clinici e devo dire anche evidenziati dalle revisioni sistematiche della letteratura e in particolare da una meta-analisi fatta e presentata dal gruppo di Nissan al congresso di Stoccolma del 2015 dove sono stati presi in considerazione i nostri studi e vedere che sono studi che si sono concentrati sull'utilizzo di impianti di 6 mm e 6 poi di impianti lunghi 5 mm impianti e larghi 6 impianti 5 mm e larghi 5 adesso stiamo lavorando con degli impianti larghi 4 mm e tutti questi studi in cui abbiamo confrontato impianti corti paragonati a impianti standard in osso rigenerato ci stanno dando grandi soddisfazioni e grande evidenza scientifica che l'impianto corto comunque addirittura perde meno osso o cristale di quanto non lo perda un impianto standard in osso rigenerato vedete questo è un caso Speed Mouth dove abbiamo fatto un sinus lift nel lato sinistro e abbiamo messo impianti corti nel lato destro e questo è un controllo a 8 anni questo è un impianto largo 6 e alto 5 e qui invece è uno studio clinico che noi abbiamo fatto utilizzando degli impianti alti 5 e larghi 5 impianti ad esagono esterno vedete utilizzati per riabilitare una mandibola posteriore vi vado rapidamente vedete questo è un controllo a 10 anni dove c'è una perfetta stabilità dell'impianto e della protesi a livello cristale quindi io direi che possiamo anche concludere questa relazione dicendo che noi dobbiamo avere tante frecce al nostro arco pensare alla chirurgia rigenerativa capire qual è la tecnica migliore per fare una tecnica rigenerativa e oggi io ritengo che la GBA sia la tecnica più predecibile e meno invasiva però sapere che esistono delle soluzioni alternative mini invasive come possono essere gli impianti corti gli impianti tiltati e lo sfruttamento della tuberosità io vi ringrazio questa è la mia mail per qualsiasi necessità mi potete contattare sono a vostra disposizione e termino sempre ringraziando il professor Park e la Megagen internazionale e la Megagen Italia per lo spazio che mi ha concesso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti